Diciamo che questa occupazione è stata un po' diversa dalle altre perché noi rappresentanti di istituto ci siamo trovati di fronte a una grandissima massa di studenti che aveva la voglia di occupare. Essendo rappresentanti di istituto non siamo dittatori, quindi a questo punto abbiamo cercato di appoggiare e cercato di organizzare qualcosa insieme a chi voleva realmente occupare. Quindi per evitare che ci fossero delle situazioni spiacevoli per tutti abbiamo cercato di un po' prendere in mano noi la situazione e gestirla noi al meglio per evitare insomma di appianare un po' i conflitti interni che ci sono con preside e con altre personalità influenti all'interno del consiglio di istituto e della scuola. Più tardi abbiamo un'assemblea dove vedremo di organizzare tutto il piano politico, dell'occupazione e capire come muoverci anche nei prossimi giorni. Per domani abbiamo anche indetto un'assemblea con tutti i rappresentanti così per ampliare la cosa e non lasciare che sia il canizzaro solamente a muoversi. Non dico che tutte le altre scuole debbano occupare il canizzaro occupato, più che altro anche le altre scuole debbano rendersi conto che qualcosa al canizzaro è successo oggi, che qualcosa si sta muovendo e che sia giusto portare quelle sono le nostre stanze e sono le stanze degli studenti anche all'interno delle altre scuole.